Il battaglione di formazione con il lavoro della 35esima legione della milizia rendeva gli onori nella stazione per l'arrivo alla spezia del generale Luzze, capo di stato maggiore delle squadre d'assalto germaniche, alla testa della missione militare in visita a Italia che accompagnato dal capo di stato maggiore della milizia generale russo e da tutte le autorità della provincia con a capo l'ammiraglio comandante e il dipartimento militare marittimo ha avuto modo di constatare l'alta efficienza e attrezzatura della nostra importantissima base navale militare Ligure. In piazza Verdi una folla immensa di popolo plaude ai graditi ospiti.